Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart in studio Cesare Martignan. In A1 coda per un veicolo in fiamme tra Valdarno e Arezzo per i mezzi in viaggio verso Roma. In Fipilì coda in uscita la Strassigna per i mezzi che provengono da Firenze. Coda anche a Firenze Scandici in viaggio verso il capoluogo per viabilità esterna congestionata. In via Baccio da Montelubo presso la rotonda che collega con via Minervini in zona Solviciano a Firenze è segnalato un incidente con ripercussioni sulla mobilità della zona. Per i cantieri della tranvia a Firenze dalle 21 di stasera scatterà la traslazione dell'area di cantiere al centro del viare Lavagnini nel tratto tra via Landino e via Poliziano. Attesa per il 13 marzo per le modifiche al cantiere in piazza San Marco. Morsi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Altre info sui nostri canali social. Buon viaggio! Altre info sui nostri canali social.